Cos'è successo cos'è successo cartografa allora come si è messi Lo zerbale non è segnato su Google Maps ma è facilmente raggiungibile continuando da Santa Sofia verso Campigna lungo l'ISP4 R del Vidente e per essere ancora più chiari vi lascio le coordinate, equivalenziali alla freccia, del dove abbiamo parcheggiato noi Ascoltate tutti, poste e cascate ve lo zerbale Il fiume evidente, oltre ad essere ricco di storia, regala davvero tante belle sorprese Prima tra tutti lo zerbale Allora si prosegue Dopo Santa Sofia scendiamo Però adesso quando le vedo metto memole nome mio, folletto sono io Il tipo di percorso è un anello, la difficoltà dell'acqua trekking è molto facile La differenza è veramente minima per quanto riguarda il dislivello Perché infatti l'altezza della cascata siamo sui 422 metri, mentre dove si parcheggia l'auto siamo sui 437 Mentre la distanza appunto dell'anello in chilometri è semplicemente 3,2 km Un'informazione di una certa rilevanza Tenete bene a bada che il segnale cellulare si perde già dall'inizio del sentiero Quindi per sicurezza è consigliabile comunicare sempre il vostro itinerario a qualcuno prima di partire Non sia mai che qualcuno poi si addormenti o si perda Ecco, qui si può fare già il tutto Musica Daria, questi ansimi potrebbero essere fraintesi No, però io ho bisogno di aggrapparmi da qualche parte, quindi vai pure. Sai, da questi discorsi poi... cioè è un attimo il doppio senso. L'acquatracking è partito. Si scende. Ormai è troppo tardi. Ormai è troppo tardi. Un commento a caldo. Mi raccomando ragazzi, se volete fare l'acquatracking, venite non in infradito, ma nel modo più assoluto. Venite invece con le scarpe a scoglio. Brava Vale! Oggettivamente è un posto brutto, vero? E' bruttissimo al momento. Attenzione a che Fra mi sta scappando dall'inquadratura, ma è lui, è lui che ha detto che è bruttissimo. Oggi nessun padido, solo coraggiosi. Un po' ormai. Ma Vale, che cosa ne pensi di questo nostro trekking che abbiamo abbandonato totalmente... acquatracking poi, scuso il termine, abbiamo abbandonato totalmente l'idea di seguire un percorso stabilito e semplicemente seguiamo la natura. Puh resta. Il flow. Il flow. Cosa ne pensi di questo seguire il flow? Lo trovo da razza. Stai cincischiando? Mai nella vita. Mai nella vita. Io a differenza di voi uomini sto facendo la cavaliera. Non so che notate. Lo Zerbale è un luogo molto conosciuto, quindi soprattutto nel fine settimana è spesso frequentato da giovani e famiglie. Se desiderate trovare i migliori posti disponibili è consigliato, o venire molto presto, oppure scegliere dei giorni dell'infrasettimana, così non si corrono assolutamente rischi. Oggettivamente bisogna stare molto attenti perché si sta facendo dell'acquatracking molto scivoloso, però ragazzi che spettacolo. Siamo giunti alla cascata. Allora? Tutto benissimo. Qui si presentano tre pozze d'acqua e due cascate, la prima delle quali offre persino l'opportunità di uno scivolo naturale. Tutto intorno si estende un magnifico paesaggio verde. La prima pozza si presenta profonda e stretta, mentre la seconda si apre in una più ampia superficie, con una profondità di circa 7 metri. In quest'ultima è facile ammirare dei tuffi, però attenzione, prima di ogni singolo tuffo, valutare bene le proprie capacità, le distanze. Divertirsi è un bene, farsi male proprio no. Perchè sono così ingestibili, che non vogliono fare il sentiero, ma hanno per altri libri? Leo? Ti può dirlo. Mamma mia. Sei pronta per fare il tuffo? Sì, di belle. No, tutto non credo. Tecnica culaterra by Linda? Mi sono fatta ridere dietro anche a Bali, con la città con la terra, però non so. Quindi ragazzi le aspettative adesso? Linda? Qual è? Relax. Non spaccarsi la testa? Presco, non spaccarsi la testa, esatto. Possibilmente nessun altro osso. Ok, quindi va bene così. Chi si butta? No, no, io me la porto dietro. Uno, due, tre. Hooré sto. Hooré sto. Ay, dai, dai güi. Hooré lo! Hooré! Grazie a tutti. Noi uomini indomiti siamo tornati indietro a recuperare il frigorio portatile e per farlo cosa abbiamo fatto? Siamo semplicemente risaliti in verticale, non climbing ma c'è il sentiero dove eravamo, abbiamo percorso la statale e in 5 minuti di camminata tranquilla siamo arrivati a destinazione. Poi serve anche la fortuna di ritrovare un parcheggio magari anche un po' più vicino. E niente, ciao! Allora ragazze, per il momento come lo classificate questa location? Molto bella. Molto bella? Sì, ha provato. Linda? L'ha provato. La roccia sottopelle, cosa dice? La peggio. Lei è felice di questa giornata, dica la verità. Dica la verità. Tantissimo. Allora Leo, ora che torniamo verso la macchina, te hai un compito. È un compito difficile, ma proverò, me ne faccio carico. Bravo, devi portare il frigo. Su, avanti, si ritorna verso le macchine, avanti. Ora, verso il sentiero, si ritorna verso la strada statale. Molto easy, tanto è anche corto. specialmente se si fa adesso in quest'orario, perché non c'è più il sole che ciocca. Allora, non è, Monza? Dai, butto. Allo Zerbale? Eh. Molto, molto carino, molto bello. Acqua abbastanza fredda, scivoli carinissimi da fare, anche se io non li ho fatti. Ma il livello dell'acquatrekking? Ah, molto facile, molto, molto facile. Allora, missione compiuta. Bellaccia a casa. Dai, Leo, inizia con i saluti. Saluta. Ciao, ciao. Ciao. Salutate tutti, salutate tutti. Vai, Ramos, di là. Vai, occhi. Vai, Ramos. Grazie.